Ciao a tutti, eccomi qui per un nuovo video. Oggi ti voglio parlare di una cosa molto importante. Ci sono tante persone che nella vita si sentono un po' perse, perché? Perché sentono un grande senso di vuoto e fanno fatica a dare un senso, un significato vero e proprio alla propria esistenza. Beh, questa è una chiave veramente fondamentale per la nostra vita, perché? Perché nel momento in cui noi non riusciamo a comprendere il motivo per cui siamo qui, non diamo un senso alla nostra esistenza, e beh, ci sembra tutto inutile, soprattutto quando ci troviamo in situazioni di grande sforzo, in situazioni sfidanti, in cui abbiamo delle cose da fare, delle incombenze che magari ci sovrastano. Nel momento in cui noi non abbiamo una mira, non abbiamo un obiettivo e soprattutto non sentiamo che quello che stiamo facendo ha un senso, non sentiamo un fine più grande delle singole difficoltà, allora diventa molto complesso portare avanti proprio la nostra esistenza. Per qualcuno addirittura diventa complesso alzarsi dal letto alla mattina. Per cui quello che io ti stimolo a fare è di cercare questo significato, questo senso che tu vuoi dare alla tua vita. Beh, sicuramente se tu dovessi essere tra le persone che ha una missione di vita, beh, allora quello è il punto fondamentale della tua esistenza. Beh, ti spiego una piccola cosa. Tutti noi abbiamo un cammino che ha un senso e un significato. Tutti noi abbiamo uno scopo di vita, per ciascuno è differente. Questo scopo ha tanti aspetti, tra cui le aree di crescita, di miglioramento del nostro spirito, che sono di contributo all'universo, alla crescita di tutto l'universo di cui noi siamo parte integrante. Qualcuno di noi ha una vera e propria missione di vita. Ha una vera e propria missione che è un compito che proprio grazie al cammino spirituale che abbiamo fatto attraverso le varie esistenze, abbiamo magari alcuni di noi scelto di portare avanti in questa vita. Ma a prescindere di quello che può essere il tuo cammino in questa esistenza, quello che io ti stimolo a fare è proprio di scegliere, cominciare con lo scegliere tu stesso qual è il significato e la direzione che vuoi dare alla tua vita. In che modo? Beh, parti dalle cose più grandi e importanti. Cosa intendo? Beh, intanto da tutte le cose che ti fanno sentire bene. Fai delle scelte congruenti con quelle cose che ti fanno sentire felice di quello che sei, non tanto di quello che hai o di quello che ottieni, no, non è questo, ma di quello che sei, è che quando ti guardi allo specchio, che sia un momento, che sia mattina o sera non è importante, ma quando ti guardi allo specchio tu possa sentirti veramente felice per quello che tu sei. Quindi scegli, comincia con lo scegliere tu stesso qual è il cammino che vuoi dare alla tua vita, qual è la direzione che possa anche partire da azioni semplici. Io voglio essere una brava persona, voglio fare ogni giorno qualcosa di buono per me e per gli altri. Questi sono punti fondamentali. Perché? Perché nel momento in cui tu dovessi avere uno scopo difficile da trovare, che non sei pronto a trovare, o addirittura una missione di vita che magari è difficile che tu possa trovare da solo, a meno che tu non venga illuminato o non sia pronto per riceverlo, allora rischieresti di fermarti, di bloccarti. Quindi quello che ti suggerisco è per non bloccare la tua vita, di cominciare a dare una direzione. Quindi comincia proprio a chiederti quali sono le cose che vuoi realizzare, che vuoi fare e che ti permettano di sentirti felice di te stesso, di te stessa. Quindi comincia con questa piccola grande cosa che ogni giorno dà un significato profondo alla tua vita. Perché tu immaginati ogni giorno, anche con questa cosa semplice che ti ho detto, se tu ti svegliassi e ti cominciassi a chiedere come posso oggi rendere questo mondo un luogo migliore, come posso rendere la mia vita e quella degli altri più bella, anche con azioni semplici. E la sera prima di andare a dormire, se tu ogni giorno ti ricordi quello che tu hai portato, che tu hai portato e che hai fatto e che hai realizzato, rispettando questo tuo obiettivo, questa linea che tu hai cominciato a darti, vai e andrai a dormire molto contento. Quindi comincia a fare questo. E se dovessi avere qualche dubbio, qualche paura, qualche resistenza, vai a lavorarci con la Divine Connection. Vedrai che già solo aprirti questa strada, questa grande strada, ti aiuterà magari ad aprire il tuo cuore verso lo scopo della tua vita, o magari ti permetterà di aprire quelle che sono le porte che ti permetteranno ad accedere agli strumenti con cui potrai entrare in connessione con la tua missione. E con questo io ti saluto e ti suggerisco, se non sei ancora all'interno del gruppo Facebook Divine Connection, di entrarci perché ogni giorno facciamo del lavoro, c'è condivisione e ci sono tanti strumenti di cui puoi usufruire. Ok? Ti saluto e al prossimo video. Un abbraccio di luce. Ciao!